bella tutti i free withers bentornati a questo appuntamento con spliff break siamo appena rientrati da milano e subito abbiamo due grandi notizie importantissime da diffondere dunque prima di tutto grazie a tutti gli attivisti che sono stati in piazza oggi con noi sotto il palazzo della regione una quindicina di persone davvero grazie a tutti grandi perché ci stiamo organizzando davvero alla grande perché soprattutto perché per le prospettive future quello che si sta costruendo davvero incredibile perché oggi sono venute persone addirittura da fuori città che si coordineranno nelle loro zone quindi varie città coperte per il prossimo futuro e inoltre sono state insomma effettuate davvero importanti proposte anche vedendosi insomma si costruisce meglio insieme chiaramente e anche il fatto di fare un'area un'idea di fare una riunione nazionale appunto un po come fatto per la raccolta firme in prospettiva futura per chi volesse portare il messaggio del referendum e degli attivisti uniti nel suo comune la sua città e allora ci stiamo organizzando per una riunione futura per come spedire il materiale per come farlo stampare autonomamente che già si può fare sul sito attivisti uniti punto it ma anche free with punto it slash scarica trovate tutto il materiale puoi trovare volantini mandarli stampa eccetera eccetera fare ordinazioni col materiale adesso tramite free with ma ci si sta organizzando davvero anche per il prossimo futuro ovviamente per la prossima primavera quindi prima di tutto grazie a tutti per stata una giornata importantissima abbiamo distribuito oltre 500 volantini abbiamo incontrato davvero tante persone mamme padri persone che lavorano in regione e che hanno magari figli che fanno uso magari che invece sono un po contrari magari invece che sono molto favorevoli è stato molto bello molto importante vogliamo ringraziare davvero tutto anche il servizio d'ordine della digos perfetto tutto perfetto è stata davvero una bella giornata un bel momento di incontro anche una bella riunione per coordinarsi e per presentare quello che è il comitato del sì che poi ripetiamo nient'altro è che un gruppo di attivisti uniti che però mettono il referendum davanti a tutto e mettono la regolamentazione davanti a tutto come base finale abbiamo quella del manifesto collettivo lo sappiamo e la spingiamo insieme questa proposta di legge e proprio su questo tema oggi stamattina in concomitanza col nostro evento in realtà un po prima su radio popolare il sindaco sala alla domanda diretta se al referendum eventuale che ci sarà nella prossima primavera di cui stiamo parlando tanto sulla cannabis e anche sull'eutanasia eccetera eccetera con i quesiti referendari se insomma già un'idea gli è stato chiesto e ecco la risposta del sindaco sala che vi mandiamo e vi ringrazio ancora e vi saluto e soprattutto vi ricordo di abbonarvi al canale di iscrivervi e di diffondere e condividere su tutti i social bella free readers fino alla libertà una seria politica e una ironica quella seria politica è sindaco referendum sul cannabis e sull'eutanasia lei ha già deciso se si faranno come voterà voto sì e sì grazie grazie